Io devo chiamare per un tweet l'altro padrone di casa che è Claudio Cubitosi che ci ospita in questa struttura. Un tweet che non era previsto, grazie Marcello, ancora una volta complimenti, saluto tutti voi. Il tweet è questo, fatemelo rivolgere a una persona naturalmente che condivide, Antonio Passolini, perché io aspettavo questo momento, quando l'ho visto devo andare subito perché quello che voi vedete qua oggi, quello che vedrà la Multimedia Valley, inizia dalla sua opera politica. Quindi lui è voluto, in un momento difficile, anche nel momento economico e finanziario della nostra legione, mantenere fede agli impegni. Caro Presidente, caro Antonio, grazie sempre per quello che hai fatto e come hai creduto televisioni. E quel giorno io e te ci siamo guardati e abbiamo visto lungo. Grazie ancora e buona serata pure voi.